Presidente Gatta, dopo due giorni di polemiche, è pronto a ritirare il diniego e far passare il Giro d'Italia sulle provinciali di Capitanata? Ci dovremmo sedere, dovremmo discutere, certamente il Giro d'Italia si farà, ma si farà anche alle condizioni dell'amministrazione provinciale, perché quando manca il rispetto istituzionale da parte di altri organi, è chiaro che qualcosa in termini di comunicazione non ha funzionato, cioè a prendere come provincia dagli organi di stampa che la gran parte del tratto interessato al Giro d'Italia trattasi di strade provinciali che tra l'altro vivono una situazione di grande difficoltà in quanto non da anni che non si fa la giusta manutenzione, è chiaro che è desta preoccupazione. L'anno scorso, 45 giorni prima, solo 45 giorni prima, arrivò la comunicazione da RCS per intervenire, con grosse difficoltà intervenimmo con una variazione di bilancio, con procedure accelerate da parte dell'ufficio tecnico, quest'anno ritenuto far sapere ad RCS che esiste anche la provincia, oltre alla regione, è quindi opportuno sedersi ad un tavolo e trovare le soluzioni opportune, perché ritengo che il Giro d'Italia sia una grande opportunità per il territorio di Capitanata. Ecco, il settore viabilità della provincia ha stimato 2 milioni di interventi, dove li reperirete questi fondi? Appunto, ci sono delle buone pratiche in altre parti d'Italia, per esempio l'anno scorso la regione Bruzzo ha stanziato delle somme importanti per i territori interessati dal Giro d'Italia, finanziando strade provinciali e strade comunali. Quindi, appunto, così come bene ha fatto la regione a stanziare 100-150 mila euro a finanziare RCS per il Giro d'Italia, chiediamo alla regione di aiutarci e quindi a finanziarci anche altri, diciamo, interventi, quali la viabilità. Sul Gasgano, Presidente, dicono che lei pensa più ai Monti Dauni che al Gasgano. Ma io in un anno i fatti raccontano tutta un'altra realtà. Dicevo, l'anno scorso, in 45 giorni, ho previsto 500 mila euro a favore dei comuni di Rignano Garganico, San Marco Illamis ed altri territori. Un milione e sette per ripristinare la viabilità di un'altra parte del Gargano e quindi con un intervento, quello importante, che interessa San Marco Illamis a San Nicandro, una strada che da cinque anni è chiusa. Una programmazione, quella che è stata portata avanti in questo anno con il contratto istituzionale di sviluppo per la Capitanata, che ha visto 120 milioni solo e soltanto per il Gargano, con quattro interventi importanti. La mattinata a Viest, circa 50 milioni, la piede garganica con 28 milioni, la Rivolese, la 77 che collega Manfredonia a Cerignola con altri 30 milioni e 9 milioni per la 141, la strada delle Saline che interessa il territorio di Zapponeta-Manfredonia. Quindi da parte mia c'è la massima attenzione da parte per tutto il territorio di Capitanata, non solo per i Monti Dauni ma soprattutto per il Gargano che è la perla del nostro territorio e che promuove turismo, promuove ricchezza, promuove sviluppo e occupazione. Allora per concludere questa intervista cosa si sente di dire al sindaco di Vieste in questo momento? Che ci dobbiamo incontrare quanto prima, sederci ad un tavolo, discutere e non fare polemiche sterili che non servono a questo territorio, quindi dobbiamo lavorare tutti insieme, insieme alla Regione per cercare di risalire la china e per creare le condizioni migliori per questo territorio.